Benvenuti a un altro appuntamento con Starbene in TV. In questa settimana noi ci stiamo occupando sotto certi aspetti, verrebbe da dire di aspetti un po' particolari della vita e dell'organizzazione della sanità pubblica nella nostra città. Questa sera il nostro ospite è il dottor Mario De Denaro che è direttore della struttura complessa di fisica sanitaria appunto dell'Auswitz. Grazie dottore per essere venuto a trovarci. La prima domanda è semplicissima, che cosa ci fanno i fisici in ospedale? Bene, innanzitutto la ringrazio per questa domanda perché mi dà un po' l'opportunità di spiegare quelle sono le nostre attività e perché i fisici si trovano all'interno dell'ospedale. Dunque innanzitutto la nostra attività è molto articolata, abbiamo rapporti e collaborazioni con molte strutture ospedaliere. Però diciamo di prima in prima battuta potremmo dire che la presenza del fisico è anche abbastanza logica se si pensa anche al nome stesso delle apparecchiature che si trovano in un ospedale. In un ospedale ci sono apparecchiature di alta tecnologia con nomi altisonanti, possiamo per esempio all'attacca che vuol dire tomografia assiale computerizzata o la PET, la PET significa tomografia di emissione di positroni, ultrasuoni, laser, cose di questo tipo. E poi tra l'altro si può pensare anche a apparecchiature come la risonanza magnetica. la risonanza magnetica o meglio risonanza magnetica nucleare si dovrebbe dire è una apparecchiatura complessa che porta addirittura il nome del principio fisico che sta alla base del funzionamento di questa macchina. Mi perdono perché io faccio sempre confusione, la risonanza magnetica è il tunnel? Sì, sì, c'è un tunnel all'interno del quale è inserito il paziente. Perché faccio confusione con l'attacca. Sì, sì, diciamo esternamente si assomigliano alle due apparecchiature, però il principio fisico è completamente diverso. Un altro aspetto che fa pensare appunto come opportuna la presenza del fisico in ospedale sono per esempio gli acceleratori lineari che si usano in radioterapia. Probabilmente è noto che la scienza, la ricerca di base in fisica già negli anni 30 è cominciata in maniera molto importante con gli acceleratori di particelle, perché negli anni 30 si voleva avere il riscontro sperimentale delle teorie matematiche, della matricanica quantistica e via dicendo. E quindi quelle apparecchiature nate negli anni 30, che poi si sono sviluppate col CERN di Ginevra e non ultimo il sincrotrone di Trieste, all'interno di quelle strutture molto complesse che servono a queste ricerche, ci sono degli elementi tecnologici che sono esattamente gli stessi che ritroviamo poi negli acceleratori di accessori lineari che vengono usati in radioterapia. Naturalmente macchine riprogettate, pensate per quelle applicazioni, ma diciamo il principio nasce dalla ricerca di base, questa è una cosa tipica. La ricerca in fisica molto spesso inizia con intenti speculativi, diciamo 360 gradi, poi si viene incanalata in applicazioni. Una delle applicazioni più classiche, anche perché fa piacere utilizzare la tecnologia per il bene della salute della cittadina, è proprio l'applicazione nell'ambito della medicina. La vostra struttura complessa è una struttura complessa che ha a che fare, mi correga se dico delle cose sciocche, ha a che fare più con i medici che con i pazienti, oppure avete a che fare anche direttamente con i pazienti? No, è corretto, noi non abbiamo un rapporto diretto con i pazienti, collaboriamo molto con i medici, collaboriamo soprattutto con tre strutture, innanzitutto come ho già detto con la radioterapia che fa uso di questi macchinari, poi collaboriamo con la medicina nucleare senz'altro perché come tutti sapranno negli ospedali di un certo livello si fa uso di sostanze radioattive, nei reparti di medicina nucleare e poi con le radiologie. Tutti questi tre reparti noi infatti siamo inquadrati in un dipartimento, un dipartimento di immagini insieme alle radiologie e alla medicina nucleare e quindi l'interazione del nostro gruppo, noi siamo i sette fisici, siamo poi specializzati un po' in tutte queste branche, diciamo la nostra attività è principalmente con questi reparti, quindi non abbiamo un rapporto diretto col paziente se non di nuovo per quello che riguarda la radioterapia. Quando un paziente deve sottoporsi a radioterapia allora per qualsiasi paziente che viene sottoposto a questi trattamenti viene personalizzata la terapia sul singolo paziente e là è necessario un lavoro fianco a fianco proprio del fisico e del medico radioterapista. Per entrare un po' più nei dettagli, questi tipo di trattamenti partono da un'immagine, spesso da un'immagine TAC, su questa immagine il medico ha il compito, considerata appunto la sua professionalità, di individuare il bersaglio che normalmente è un tumore e una volta individuato il bersaglio sempre sulle immagini della TAC con questi software molto evoluti, poi c'è un'interazione tra medico e fisico e il fisico è quello che poi progetta il piano di cura proprio. Perché questo? Perché il fisico come competenze sa, diciamo, ha sempre studiato qual è il comportamento della radiazione all'interno dei tessuti. Quindi, mi corregga anche in questo caso, se sbaglio, è il fisico che dice dove la radiazione deve essere, virgolette, puntata? Sì, sì, esatto. Questa parte, diciamo, di programmazione della macchina per andare a colpire un certo bersaglio e compito del fisico. Invece il medico deve stabilire qual è la zona che deve essere colpita, no? Perché riconosce. Che quando ti fanno i punti là sul... Ma io ho fatto la radioterapia, posso dirlo senza nessun tipo di problema e quindi... Lei intende i tatuaggi? Sì, delle... Non so quando l'ha fatta lei, ma... Dieci anni fa. Ok, però ci temo a dire anche che la radioterapia è un campo che si sta sviluppando moltissimo. Negli ultimi anni si è sviluppato molto. Secondo me, se andiamo a vedere gli sviluppi della diagnostica per immagini e quelle della radioterapia, probabilmente negli ultimi anni quella che ha corso di più, diciamo, nella radioterapia. Perché si è riuscito, queste macchine sono riuscite a individuare bersagli sempre più piccoli. Cioè ci va più chirurgi, sartoriali, no? Sì, sì, sì. Si riesce a ridurre la dimensione del bersaglio da colpire e si riesce a innalzare la dose da dare e quindi con un grosso beneficio per... ecco. Tanto è vero che ultimamente, vado un po' a braccio, ultimamente si è passati a delle tecniche che si chiamano IGRT, che vuol dire Image Guide Radiotherapy. Cosa vuol dire? Che le tecniche di imaging, quelle di diagnostica, TAC, risonanza e PET, per esempio, diventano sempre più necessarie perché si ha bisogno in qualche modo di seguire il bersaglio. Seguire perché? Perché il paziente non è mai seduta dopo seduta, non è mai lo stesso. Un po' si muove, un po' dimagrisce, la lesione si riduce. Quindi è un tipo di radioterapia che si deve adattare ai cambiamenti del paziente, perché il paziente fa più seduta, non è che fa un'unica seduta. E in più c'è un altro aspetto, la tecnica è diventata così precisa che anche il movimento respiratorio fa sì che questo bersaglio si muova e quindi la macchina deve in qualche modo inseguire il bersaglio, se vuole mantenere la precisione su quel volumino. E quindi ci sono tecniche nuove, ancora un po' sperimentali, o c'è una telecamera che è sincronizzata, queste telecamere che si sincronizzano con il movimento del paziente e sono in grado di generare dei movimenti. Il vostro lavoro quanto è, come posso dire, collegato, ma insomma il termine non è felice, mi rendo conto, proprio alla macchina, nel senso lavorate in sintonia con la macchina, programmate la macchina, manutenete, non so se anche la manutenete o comunque come... Allora ci sono, anche questa domanda interessante da ringrazio, ci sono due aspetti, un aspetto è legato alla sicurezza, che è il core del nostro mestiere. Noi c'è anche dei decreti leggi che impongono che laddove si fa uso di raggi X e di sostanze radioattive la presenza di fisico è obbligatoria. Quindi abbiamo un grosso lavoro legato alla sicurezza. Per sicurezza intendo la sicurezza del lavoratore innanzitutto e la sicurezza del paziente, che poi sono collegate. Siamo un po', mi consenta questa battuta, i medici della perecratura, nel senso che dobbiamo occuparci delle macchine. Cosa vuol dire? Fare un breve discursus delle nostre attività, per esempio quando arriva una nuova perecratura ad alta tecnologia. Prima cosa dobbiamo contribuire come consulenza e anche sceglierla, nel senso che noi stiamo sul campo e sappiamo un po' i pro e i contro di questi vantaggi e svantaggi di alcune prestazioni di queste macchine. Una volta che abbiamo aiutato nella scelta dell'apparecchiatura, dobbiamo passare a una fase, io credo molto importante, che è quella dell'accettazione dell'apparecchiatura. Se c'è stata venduta l'apparecchiatura con delle prestazioni, è bene che noi verifichiamo che quelle prestazioni siano state mantenute, se questa macchina ha promesso una certa caratteristica e allora abbiamo tutta la serie. Non è che una televisione a colori che uno può dire, regolo, è un po' più serio. E abbiamo tutta la strumentazione per farlo, quindi appena arriva la macchina la blocchiamo per qualche giorno e insieme allo specialista della ditta, perché questa è una figura molto importante, perché sono macchine complesse, quindi ce lo deve spiegare uno che l'ha progettata, spesso sono gli stessi ingegneri che ne hanno progettate e con cui collaboriamo. Una volta capita le caratteristiche della macchina, dobbiamo fare queste misure in casa per fare quella che può essere considerata una fotografia dell'apparecchiatura, no? E parte in questo modo qua. Facciamo una relazione dove ci sono tutti i dati, questa risoluzione spaziale, questo rumore, tutti questi parametri tipici di un'immagine, per esempio, e poi dobbiamo mettere in piedi un programma di controlli periodici per essere sicuri che la macchina funzioni. Cosa succede? Se nel tempo, dopo 5-10 anni, può succedere che la macchina cominci a non avere più le prestazioni iniziali, dobbiamo sempre avere un collegamento con gli ingegneri, invece con il gruppo degli ingegneri dell'ospedale e comunicare, guarda che questo parametro sta avendo una deriva, cerchiamo di fare una manutenzione straordinaria o, se è del caso, chiamiamo anche la ditta e blocchiamo la macchina per una riparazione. Questo è fondamentale per la sicurezza, perché se queste macchine sono macchine alla GX, se non funzionano al meglio... Sì, sì. Ogni macchina ha, diciamo così, una sua virgolette durata media che viene in qualche modo stabilita a seconda di quello che si può pensare sarà il suo utilizzo oppure... Sì, sì, certo che c'è una vita media, non è mai però stabilita e viene appunto determinata da questi nostri controlli. Se uno la verifica periodicamente, quando poi si capisce che un parametro è fuori tolleranza, allora è il caso di intervenire. O si riesce a riportarlo all'interno della tolleranza oppure... Ecco, ma questa è una cosa che mi incuriosisce, nel senso, l'ospedale decide di acquistare un'apparecchiatura. Cos'è poi? Ci sono delle marche che ne fanno più... Cioè, funziona come... Adesso io analizzo e chiedo scusa, però è come comprare, diciamo, un elettrodomestico, nel senso, vedo quello che c'è, quello che mi serve, come funziona poi? Sì, sì, beh, diciamo, l'altra tecnologia di solito sono tre o quattro ditte che ho capito, sono quelle grosse che fanno anche i frigoriferi e sono colossi. Sì, un giorno mi ha stupito, perché ho visto Philips scritto su... Sì, una questa. Naturalmente, come per un acquisto che si farebbe a casa propria, bisogna valutare e fare una gara d'acquisto. Una cosa che si fa spesso, che è molto utile, è di andare a vedere queste macchine prima di acquistarle in centri specializzati che di solito sono indicati dalla ditta stessa, no? Si va, non so, in Olanda, per la Philips, per dire... Sì, 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 va. ...i centri dove la macchina viene costruita. Sono anche delle visite molto interessanti perché si vede sia l'aspetto ingegneristico che quello clinico, si va a vedere anche... Quindi... Qual è l'aspetto clinico? Anche nel clinico si va proprio a vedere un esame, il medico... Ah, ho capito. Il medico è multidisciplinare, c'è noi, l'ingegnere, anche il medico, che affianca il medico di quel specifico centro molto indicato dalla ditta e vede un po' le prestazioni sul campo proprio. Lei prima ha indicato che il vostro lavoro ha a che fare di più con radioterapia, medicina nucleare e radiologia. Ci sono anche delle strutture, nel senso dei, come si dice, dei reparti con cui siete più in contatto oppure il contatto passa sempre attraverso queste tre, evidentemente, e poi arriva a voi? Ma no, con queste tre diciamo è un rapporto quasi quotidiano, ci vediamo spesso. Poi ci sono altri reparti con cui interagiamo un po' meno, ad esempio tutto un mondo, diciamo, legato a quelle che si chiamano le radiazioni non ionizzanti, quindi laser, il laser è molto usato negli ospedali, i laser, gli elettrobisturi, gli ultrasuoni, queste apparecature con meno tecnologia, diciamo, ma pur sempre che richiedono un po' di attenzione. Per esempio uno del nostro gruppo si occupa di laser e ha l'incarico di formare, una delle cose legate alla sicurezza, non dico niente di strano perché ormai è acquisito, la cosa principale della sicurezza è fare formazione all'operatore e anche i laser hanno bisogno di formazione perché è chiaro che ci vogliono gli occhiali, in alcuni casi l'ambiente non deve avere superfici riflettenti, ecco cose di questo tipo, devono essere messi i cartelli, in ospedale ci sono molti cartelli, zona controllata per le radiazioni, zona, e questo è un po' tutto sotto le nostre responsabilità, è un lavoro molto interessante perché è molto diversificato. A tal proposito volevo chiedere una cosa che anche questa mi incuriosisce un po', nel senso, ormai per un motivo o per l'altro l'idea per esempio che si utilizzi il laser, che si utilizzi appunto le TAC, le risonanze magnetiche eccetera, sono entrate grosso modo in una sorta di patrimonio culturale della gente, cioè sappiamo che esiste la TAC, sappiamo che esiste appunto quella del tunnel che adesso io non mi entra in testa, sappiamo anche che il laser è utilizzato per esempio in oculistica eccetera, tanto è vero che delle volte sotto certi aspetti ci stupiamo che determinati interventi si fanno ancora tipo alla vecchia maniera insomma, fondamentalmente. secondo lei questa conoscenza da parte dell'opinione pubblica, mettiamola così, di tutte queste possibilità è un bene o un male? Cioè ci rende, come posso dire, più vogliamo per forza essere operati diciamo con l'asere per poi andarlo a dire in giro e quindi quando ti dicono ma no avrai un'operazione, ti dicono mi fai l'anestesia totale piuttosto che l'anestesia locale, cioè questo fatto che noi che non facciamo questo mestiere, utilizziamo questi termini come se sapessimo, è un bene o un male? Che cosa significa quanto meno? Un po' difficile rispondere alla sua domanda però mi viene in mente così per assonanza della sua domanda, la TAC no? Sì. La TAC è un'apparicatura che ha avuto uno sviluppo enorme negli ultimi anni e è noto che questo sviluppo ha creato anche qualche preoccupazione soprattutto negli Stati Uniti. Allora negli Stati Uniti c'era della gente che si faceva la TAC stando assolutamente in salute per vedere il proprio corpo e mostrare gli amici. Ecco, si può arrivare anche a questi eccessi e quindi diciamo che è una fase molto importante di preparazione a questi esami e di valutare la proprietà di questi esami perché ripeto l'abuso di un attacco per esempio, perché comunque è un esame che è fatto con raggi X quindi non è sicuramente un esame così da poter prescrivere con estrema leggerezza e allora è giusto che sia, intanto bisogna valutare se ci sono altre tecniche alternative e che quindi non è necessario, ma esiste tutto un dibattito sul discorso della proprietà di questi esami. Sì, c'è un po' anche come diceva lei probabilmente il fatto di voler assolutamente avere l'ultima trovata, ma bisogna che così anche serva, che ci sia un rapporto costo-beneficio che valga... Quindi tanto ti fa con l'asera adesso, questo è un po' la... specialmente per certi... un po' un po' anche la leggerezza di prescrivere esami TAC quando molto spesso... Vedi, l'attacco è una metodica molto importante perché riesce a determinare lesioni con basso contrasto, ma già se abbiamo una frattura a un braccio dove abbiamo un segnale molto evidente, l'attacco non è che serve, cioè è sufficiente una radiografia, quindi bisogna sempre trovare la metodica adatta a quel tipo di... Nel vostro ambiente, dottore, si può parlare di ricerca, cioè di innovazione e se sì dove va? Allora questa è anche una bella domanda, allora le ho parlato prima degli sviluppi della tecnologia in radioterapia, che è quello dato assodato. Probabilmente siamo in una fase in cui, adesso mi lancio un po' in fare delle proiezioni, se gli anni 70 con la diluzione del computer ha portato a un grosso sviluppo, TAC e tutte le tecniche di imaging digitale, adesso cominciamo ad essere una nuova fase che potrebbe nascere. Questa nuova fase è un po' determinata da... ma siamo all'inizio, siamo ancora in fase di ricerca, da quello che rientra nei big data. I big data cosa sono? Sono... è la possibilità attraverso degli algoritmi molto complessi di riuscire a valutare molti dati, per molti dati intendo una quantità di dati maggiore di quelle che la mente umana può considerare e valutare. Quindi ci sono, cominciano a nascere di sistemi esperti, di autoprendimento, intelligenza artificiale, questo se ne è sentito parlare in più campi e anche in medicina comincia ad entrare. Qual è l'idea? Per fare una diagnosi un medico ha a disposizione ormai molte immagini di diversa natura, ha a disposizione dell'analisi del sangue, riesce ad avere molte informazioni, ma molte informazioni che comunque stanno nel cervello umano, fanno parte dell'individuo. Se io riuscissi a mettere insieme ancora più dati, addirittura migliaia di dati, avrei la possibilità di arrivare a qualche cosa che aiuta a prevedere la malattia, a prevedere anche la cura. Negli Stati Uniti per esempio, leggevo recentemente, ci sono studi una corte di un milione di americani affetti da obesità che hanno deciso di mettere a disposizione tutti i loro dati per fare uno studio. Tutti i loro dati cosa vuol dire? Tutte le indagini diagnostiche, tutte le analisi del sangue, tutta la genomica, perché c'è anche le linee, le stili di vita, l'alimentazione, questi dati qua sommati non sono gestibili da una persona, ma sono gestibili da algoritmi che poi danno dei risultati. Quindi questo potrebbe essere... Sì, io vedevo delle diapositive che parlavano di questo, mostravano un imbuto dove si buttavano tutta una serie di informazioni e poi da questo imbuto usciva un'ipotesi, un'ipotesi che può essere un'ipotesi di malattia, un'ipotesi di cura. Questo è un campo. L'altro campo è le nanotecnologie, tutto il molto piccolo, il molto piccolo che è la conoscenza più approfondita del tumore, dei marker tumorali che aiutano poi a trovare delle cure sempre più mirate. Anche da sartoriali, come si dice. Dottore, la ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Il dottor Mario De Denaro è il direttore della struttura complessa di fisica sanitaria. Ultimissima domanda, dove si situata giusto per... Siamo l'ospedale maggiore e lavoriamo in entrambi gli ospedali, sia maggiore che cantinale. Grazie ancora per essere stato con noi, buon lavoro. Starbene in TV torna venerdì prossimo. Grazie a tutti, passate un buon weekend. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.